Musica Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui di nuovo su questo gioco Questo qua non era il calzino che abbiamo trovato prima fuori? Vabbè Ci eravamo lasciati qua l'ultima volta in questa libreria Questa è la mia vita Qua c'è ancora questo Non il tipo curioso L'orologio è pronto per te Sfortunatamente devi toccare questo processo da solo Processo? Orologio? Di che cosa stai parlando? Tutto questo è per salvare il baron Sarà necessario andare da qualche parte che non posso C'è un artefatto di grande potenza Bloccato tra le parole Questo orologio lo dovrei prendere Per quello Posso veramente portare il barone indietro? Penso di sì È la mia migliore scelta Ho capito Stai indietro Lo aprirò in un modo penso La connessione si è stabilita Per favore Fai un passo per entrare Hey Binder Allora Qua c'è una porta Allora Tiremo la leva E anche qua Ok penso Di aver capito Circa Ah ok Questo è quello che devo spostare in avanti Ok ho capito Ho capito Ok E poi l'attivo Ok ce l'ho fatta Grande lavoro C'è ben fatto Chiedimi qualcosa Se bisogna di un aiuto No tranquillo Senti che dovrò qualcosa Qualsiasi cosa Se bisogna Se avrò bisogno Così Ok ce l'ho fatta Perfetto Ma ora abbiamo questo puzzle Questa qua È l'ultima sfida Nella prossima stanza Ci dovrebbe essere L'artefatto Ok Ci proverò A non essere L'eserato Nello spazio E altre cose Ok Un pieno di qualità Ok Qui ci dovrebbe essere L'artefatto Bene Ci sei L'artefatto appena sopra Ecco l'artefatto Aspetta C'è qualcosa che non va Ho capito Ora L'ora Cosa c'è che non va Sono spaventato Non capisco niente Con quello che dice Oddio Ma che cavolo Che è lui Io ero come te Una volta Pieno di speranze Ambizioni Curiosità Paura Ora sono qui Ora sono qui Intrappolato in questo Questa prigione In questo posto Aspettando Per te No No Poteva anche Non aspettarmi Tanto A mostrarmi Perché Ho scelto te Mostrarmi perché Tu mi importi Alzati l'ora Alzati E dimostra E dimostra A te stesso Ok Mi sono andato Nella mia camera Ecco Dove sta andando Ma questa qua Non è La mia casa Dove siamo In questo posto Tu non puoi correre E questo Devo arrivare fino a lì Oh Una pagina Dove devo andare Allora Qui è chiuso Qui Andiamo per di qua Lui non sta tornando indietro Ha fatto questo Ti sta sentendo Conosce Cosa è fatto Che tipo di persona sei Mi dovrei Preoccupare Ok Mi devo muovere Tu non c'eri per lui Ora lui se n'è andato Ora dobbiamo soltanto Penso Trovare Il nostro Amico Però Visto che È tutto Buio Non è che si vede Molto Qui c'è un'altra Pagina Questo Non mi piace C'è una pagina Che mi dice Che Lui Mi sta Aspettando Ho trovato Ho trovato Un calzino Basta Trovare calzini Anche all'inizio L'ho trovato Un calzino E non mi è servito Un bel po' Non mi è servito Molto Allora Qui vediamo Cosa ci può essere Un bel niente Non ci sono già passato Là c'è un tronco Ma è l'artefatto Che fa così Tanta luce Cioè che figata Avere un libro Che fa luce Da sola Cos'è quando Leggi di sera Non devi neanche Metterti in una posizione Scomoda per leggere Tu hai fallito È colpa tua Sei pronto Per il sangue Cosa stai aspettando Io non sono pronto Per niente Una pagina Non prenderla Né ora Né mai Vai avanti Vedi dove speri Di prenderla Ah pensavo che Mi portava direttamente Mi porta Lei giusto? Ok Ok siamo qui Puoi sentirlo? No Oddio ma che cos'è? Lui ti sta aspettando Ah il salvataggio Che schifo Non puoi combatterlo Guarda Non ci penso neanche Tu non sei pronto No infatti La storia finisce qui È abbastanza Tutto questo è una bugia Non mi importa di quello che dici E neanche di questo Io voglio soltanto trovare il barone E tornarmene a casa Prendimi Buona fortuna Ne avrei bisogno Dermi che c'è il mostro Ma dai Ma c'è l'incubo Ma non ci credo Non mi importa chi sei Ce l'ho fatta? Non ho capito Ce l'ho fatta o no? No Non è ancora morto Oh L'ho sconfitto Alleluia Avevi ragione La storia non è finita Ma la sua è Baron? Questo non può essere accaduto Non mi è mai nascita da solo Non dopo tutto questo Com'è toccante? Vi sto interrompendo? No 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 Per favore Lasciami da solo Non vogliamo andare a casa? Lui ha guadagnato questo Avete fatto entrambi Ma che cosa Io Non voglio che Faccia questo Non voglio che lo colpisci Non voglio che lo colpisci Chiunque Si è arrabbiato Secondo me Cosa? Non puoi fermarmi? Non ha pena Ci sono Tre buchi neri Va bene E' scomporso? Che sta succedendo? Perché si divisi in tre parti? Siamo Qui Sembra messo male Un po' mi dispiace che non posso curarlo Veramente si sta pensando a chi può aiutarlo? Certamente Posso fare qualsiasi cosa Non sono più ragazzino Circe Ormai sono cresciuto La lunghezza dell'orecchio Non conta per Kiddo Ora aiutami a riportarlo nella sua città Ma che sono questi due? Non preoccuparti Ti lasceranno una chance Fino ad allora Puoi seguirci Ah vabbè Si stanno spammando Va bene Quindi per questo video è tutto E Bella Ciao 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 Ciao